Da oggi il commissariato di Polizia di Gela ha un nuovo dirigente, si tratta di Teofilo Belviso, già capo della divisione Polizia Anticrimine della Questura di Caltanissetta dal gennaio del 2017. Prende il posto di Francesco Marino, trasferito a Benevento dove ha assunto l'incarico di vicario del Questore. Belviso, 58 anni, di Salerno, è entrato in polizia nel 1998. Nel corso della sua trentennale carriera, Teofilo Belviso ha portato a termine numerose operazioni di polizia giudiziaria contro la criminalità comune e di tipo mafioso. Si è anche occupato del fenomeno dei flussi migratori a seguito degli sbarchi di migranti nella provincia di Siracusa. Riconversione, il ruolo del sindacato nell'epoca del cambiamento e il tema del IV Congresso territoriale UGL Chimici Caltanissetta, previsto per venerdì 11 maggio alle 10, nell'ex chiesa San Giovanni di Gela, relazionerà Andrea Alario, segretario provinciale UGL Chimici, interverranno tra gli altri Francesco Paolo Capone, segretario generale UGL, e Luigi Ulgiati, vice segretario generale UGL. E' possibile presentare fino al 31 gennaio prossimo la domanda per accedere agli assegni per nuclei familiari con almeno tre figli minorenni. L'istanza dovrà essere presentata presso lo sportello del segretario sociale del comune di Gela in Viale Mediterraneo 27. Ne hanno diritto i nuclei familiari composti da cinque persone con tre figli minori, il cui ISEE non superi gli 8.650,11 euro, oppure nuclei familiari con diversa composizione, il cui requisito economico è parametrato sulla scala di equivalenza. L'Inps pagherà con cadenza semestrale posticipata. Si terrà sabato 12 maggio alle 17.15 e alle 21.15 al Teatro Comunale Eschilo di Gela il musical La Bella e la Bestia. Per informazioni contattare lo 0933 91 1892 345 5880 580. Amara Cucicapeta, l'Allegro ospedale. Si tratta della commedia brillante di Maurizio Nicastro prevista per domenica 13 maggio alle 20.30 al Teatro Comunale Eschilo di Gela. L'iniziativa è del Laboratorio Teatrale Unitre diretto da Maria Giannone in collaborazione con l'Associazione Demetra. Per informazioni contattare il numero telefonico 333 360 2532.